ciao ragazzi buonasera oggi siamo qui nella mia postazione eccoci qua ok oggi andremo a parlare della mia postazione allora voi vi starete chiedendo ma come mai sta facendo questo video qui e là allora dato che tutti siamo in quarantena dobbiamo stare in casa ragazzi stiamo in casa per far passare sto benedetto coronavirus che o sennò qua non si riesce più stiamo dentro a casa finché non siamo morti speriamo che passi in fretta allora oggi hanno dato voglio fare una piccola precisazione che oggi hanno detto che ci sono meno contagiati però più vittime quindi noi dovremmo stare in casa quindi ragazzi stiamo in casa così passa tutto in fretta torniamo a noi noi siamo qui con la mia postazione ok qui c'è la mia console qui uno schermo e qui un altro voi vi starete chiedendo okra ma cosa stai guardando ragazzi se voi non sapete dovete andare sul mio profilo youtube e cercare questa qui andate sul mio profilo mi vedrete questa schermata qui cliccate sopra e lo ascoltate voi vi starete chiedendo ma tu hai rubato un video di qualcuno no io non ho rubato nessuna cosa ho solamente preso il video senza canzone anzi c'era la canzone però l'ho tolta e ne ho fatta una io e ce l'ho messo sopra per far vedere la copertina perché se no mettere una foto un'immagine e basta sarebbe stato un po semplice e quindi ho fatto la mia prima canzone con questa qui ok ragazzi adesso si dovrebbe vedere ok adesso la vedete questa qua vi starete chiedendo ma cos'è non è una console di quelle da dj no non è quella lì però questa qua ci assomiglia e questa qua remix alle canzoni io quella canzone che ho fatto l'ho messo su youtube l'ho fatta con questa qui questa qua e nulla questo è il mio computer lì ci sono varie casse lì sotto due subwoofer due da una parte due dall'altra passiamo dalla parte destra qua c'è un altro subwoofer che questo qua l'ho fatto io solo che non ho fatto il video perché mi è venuto un po male però in fondo dai ci sta ho dovuto metterci un po di colla qui e posso là ci sono delle altre casse e basta e qui c'è la postazione sì andate ascoltare la mia canzone che ho fatto adesso ve la faccio sentire un piccolo pezzo non voglio farvi uno spoiler grossissimo ok ragazzi questa qui è l'inizio della canzone come potete vedere non è finita e nulla condividete il video della mia canzone lasciate like spammatela dappertutto perché voglio farla scoppiare di like lasciate like a questo video condividete commentate e lasciate like ci vediamo al prossimo video